Carissimi telespettatori ben ritrovati, in questi giorni il dibattito politico influenzato già pesantemente da quello che io chiamo il testosterone elettorale è assorbito quasi completamente dalla vicenda, dal tema delle concessioni per gli stabilimenti banneari. Come si sa tutto nasce da una direttiva dell'Unione Europea, la famosa o famigerata Bolkenstein che per la verità risale anche a qualche tempo fa. In sintesi questa direttiva impone ai comuni di procedere con le gare per le concessioni banneari ponendo di fatto fine ai monopoli finora esistenti, le proroghe sistematiche ormai diventate quasi automatiche. È abbastanza evidente l'importanza, alla portata di questa direttiva che tra l'altro in Italia è stata anche assecondata da alcune sendenze della giustizia amministrativa. Il dato però è che gli ultimi governi stanno cingischiando, hanno cingischiato e stanno ancora cingischiando su questo tema e quindi alla fine succede che ognuno un po' si regola per conto proprio. Tra l'altro in queste ore è in atto un forte scontro politico, soprattutto tra la Lega e Forza Italia, per mettere il cappello su questo tema. Ricordiamo che nei giorni scorsi il Presidente Occhiuto facendo innervosire parecchio la Lega è intervenuto in pratica a piedi uniti nel dibattito con una delibera della sua giunta che consente ai comuni di prorogare fino a fin anno le concessioni in modo da attrezzarsi nel frattempo per procedere alle gare. Una scelta che ci sta, così come tutto questo dibattito politico ci sta sicuramente, però la domanda è perché se ne parla soltanto adesso in piena campagna elettorale mentre per tanto tempo non si è fatto nulla.